Sfruttare le persone è un crimine di lesa umanità, ma sfruttare una donna è distruggere l'armonia che Dio ha voluto dare al mondo. È uno dei passaggi più intensi dell'Omelia della Messa celebrata a Casa Santa Marta, nella quale Papa Francesco ha ripercorso la creazione della donna. Ricordando la solitudine dell'uomo, ha affermato che lei era quello che mancava. Per capire una donna, aggiunto, è necessario sognarla. Spesso, parlando di lei, si ragiona in termini funzionali, ma, ha ricordato il Papa, senza la donna non c'è armonia. Lei ci insegna ad accarezzare, ad amare con tenerezza, fa del mondo una cosa bella. Uomo e donna sono una sola carne, per esserlo è necessario amarsi. Quello che porta una donna, ha proseguito Francesco, è la capacità di innamorarsi e fare l'armonia. Questo è il gran donno di Dio, ci ha dato la donna. Nel Vangelo abbiamo sentito di che cosa è capace una donna, è coraggiosa quella. E' andata avanti con coraggio. Ma è di più, è di più. La donna è l'armonia, è la poesia, è la bellezza. Senza di lei il mondo non sarebbe così bello, non sarebbe armonico. E a me piace pensare, ma questa è una cosa personale, che Dio ha creato la donna perché tutti noi avessimo una madre. e quindi non sarebbe così bello. E quindi la donna è una donna. Grazie a tutti